Santa Cristina di Paoli Latino, quattordicesimo cammino, promosso dall'Ufficio della Postola di Turismo della Dioce di Oristano. Stiamo visitando il sito archeologico di Santa Cristina e qui siamo nella zona dell'Nurache. Grazie. 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 Accendiamo la toccia. Accendiamo. Dai, così la si vede. Si vede? Vogliamo giù una nuca spiegata? No, no, giù no, signora. No, lo volevo vedere dentro. Tu si vede? Un pochino. Non si vede? Eh, ecco. Ah, ecco, ecco. Che bevrazie a te. Grazie. Grazie.